Buongiorno e benvenuti all'erbolario, mi chiamo Isabel e oggi voglio parlarvi dell'importanza dell'idratazione per aiutarvi a scoprire la crema idratante l'erbolario più adatta alle vostre esigenze. Il nostro corpo è costituito per il 70% da acqua e l'idratazione svolge un ruolo fondamentale per la bellezza della pelle a tutte le età. Ogni giorno però il nostro viso è sottoposto ad aggressioni ambientali quali inquinamento, sole, vento, sbalzi di temperatura che portano alla perdita di idratazione e alla formazione dei segni di invecchiamento precoce. Proprio per questo motivo il segreto per avere una bella pelle è utilizzare uno o due volte al giorno un buon trattamento idratante. I laboratori di ricerca e sviluppo dell'erbolario hanno messo appunto tre creme idratanti in grado di soddisfare le esigenze di qualunque tipo di pelle. La crema viso idratazione intensa con estratto di viola e foglie d'olivo offre un'idratazione profonda perché stimola le acquaporine, proteine capaci di trasportare l'acqua al di là degli strati più superficiali dell'epidermide. Ha una consistenza ultraleggera che si assorbe immediatamente, è un'ottima base per il trucco ed è il prodotto ideale per le pelli normali miste che necessitano di un'idratazione intensa senza lasciare alcuna traccia o effetto lucido sulla superficie del viso. La crema viso idratante con elicriso, aloe e foglie di olivo è il trattamento ideale per le pelli un po' più sensibili ai fattori ambientali esterni. La sua formula idratante protettiva ha una consistenza morbida e confortevole ed è un'ottima base per il trucco. Per la pelle normale con tendenza secca la crema viso al polline di fiori e miele d'acacia è quella più adatta. In questo caso la consistenza più ricca e cremosa garantisce tutto il confort necessario per una pelle morbida e setosa per tutto il giorno. E per finire, una volta scelta la crema più adatta alle vostre esigenze, ecco alcuni semplici consigli per applicarla correttamente e ottenere ancora più luminosità e idratazione. Riscaldiamo la crema tra le mani e portiamola alla stessa temperatura del corpo per facilitare il suo assorbimento. Applichiamo il prodotto effettuando leggere pressioni prima sulle guance e la fronte e poi sul collo e sul décolleté. In questo modo stimoliamo la microcircolazione, eliminiamo le tossine accumulate e la pelle del viso risplenderà di nuova luminosità e giovinezza.